Ciao a tutti ragazzi, nell'ultimo periodo si è sentito molto parlare di layering nella moda Ma vi siete mai chiesti che cosa sia il layering? Lo vediamo in questo video In inglese significa stratificare e se state pensando a quando vostra nonna o vostra mamma Vi dicevano di vestirvi a cipolla perché non sapevamo che tempo avrebbe fatto fuori No, non stiamo parlando della stessa cosa L'esercizio non sta tanto nel mettersi una cosa sopra l'altra Quanto nel mixare in modo molto sapiente, con gusto, estro e molto occhio capi di lunghezze diverse Invertendo anche il normale ordine dei capi Quindi la maglietta sulla felpa, il bomber o la giacca di jeans sul cappotto Un vestito lungo con sopra una felpa oppure un maglione con una giacca più corta sopra Sovrapporre materiali con lavorazioni e diversi dal punto di vista tattile Combinare fantasie e blocchi di colore Pesantezze dei capi differenti Insomma, come avrete capito, non tutti sono in grado di farlo O almeno con gusto Altri se ne fregano, lo fanno lo stesso e se ne assumono le conseguenze Detto questo ragazzi, provateci, sperimentate, divertitevi, giocate col vostro armadio Perché l'inverno è il momento migliore per questo tipo di pratica Dai, credevate veramente che non vi salutassi? Fatemi sapere nei commenti qui sotto se utilizzate il layering A me personalmente piace molto E cerco sempre di inserirlo all'interno dei miei outfit E noi ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!